Attesa durante il Consiglio regionale di domani la votazione della proposta di legge del Movimento 5 Stelle sui tagli dei doppi vitalizi. La prima firmataria della proposta di legge, Sara Marcozzi, forte del voto unanime in Commissione, sostiene che una legge così importante per le casse della Regione, che ha visto il voto unanime della prima Commissione e bilancio, non ha motivo di non essere approvata e applicata immediatamente. Il taglio dei doppi vitalizi porterà un risparmio di circa 500 mila euro l'anno per le casse della Regione, che potranno trovare impieghi più equi e soprattutto utili ai tanti abruzzesi in difficoltà. La proposta del Movimento 5 Stelle dispone il divieto di cumulo dell'assegno vitalizio regionale con altri analoghi istituti previsti per gli eletti alla carica di parlamentare europeo, di parlamentare della Repubblica Italiana, di consigliere o assessore di altra Regione. La legge oggi vigente infatti permette di percepire il doppio e anche il triplo vitalizio. Ipoteticamente un politico che abbia svolto un mandato in Consiglio regionale, un mandato nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo, avrebbe diritto a riscuotere tre corposi vitalizi a fronte di pochi anni di versamento di contributi. Un assurdo privilegio che va immediatamente eliminato per comunicare e ristabilire un po' di equità sociale e di rispetto nei confronti dei tanti abruzzesi pensionati minimi o esodati che versano in stato di bisogno, concluso Sara Marcozzi.